Ha portato la sua grinta, la sua irrefrenabile voce a Castelvetrano, la festa del pane nero a Marinella di Seliunte, la cantante agrigentina Loredana Errore ha dato prova della sua arte. Tanti fans che non sono voluti assolutamente mancare al concerto della seconda classificata del programma di Canale 5 e Amici di Maria De Filippi. Giovani e non solo hanno preso posto già dalle prime ore del pomeriggio in attesa dell'esibizione della Beniamina, in programma alle 21 di venerdì scorso sul palco di Piazza Empedocle, una data molto attesa dunque quella della grigentina Marinella di Seliunte. Il concerto di Loredana Errore ha tanto atteso da moltissimi giovani che già dalle 15 di questo pomeriggio stazionano allo scaro di Marinella di Seliunte. Loredana Errore continuerà i suoi concerti a ottobre a Milano e a Roma, due date molto attese che faranno felici i suoi fan e che vendranno protagonista la voce e il talento di Lory. Grazie a tutti!